Nadia Nefzi, sopravvissuta al terribile naufragio della costa Concordia, ha partecipato alle selezioni di Miss Italia vincendo la fascia di Miss Monteverde. La bellissima Nadia, 20 anni, fu definita un'eroina quando nel 2012 salvò la vita Silvia, una sua amica più grande di qualche anno che aveva perso i sensi durante il naufragio. Ripensando a quella terribile esperienza, Nadia ha detto è qualcosa che non si può dimenticare, che ti rimane addosso insieme alla paura, anzi dopo è peggio perché psicologicamente vivi sempre con l'incubo di ciò che è passato. Nadia quella terribile sera si trovava a cena al terzo piano della nave insieme alla sua amica 21enne che inizialmente sarebbe dovuta rimanere in cabina. La mia amica non si sentiva bene, voleva rimanere a letto rinunciando alla cena, ma non mi sembrò giusto e feci bene a insistere perché venisse con me, altrimenti chissà quale sarebbe stata la sua sorte. Il naufragio della costa Concordia costò la vita a 32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio e durante il recupero del relitto anche un sub che partecipava alle operazioni perse la vita. Nadia non è la prima sopravvissuta al naufragio della costa Concordia a partecipare al concorso di Miss Italia. Già nel 2013 la siciliana Stefania Vincenzi, che si trovava a bordo della Concordia insieme alla madre Maria Grazia Trecarichi, era arrivata fino alla finale di Jesolo. La ragazza aveva perduto la mamma, il cui corpo fu recuperato moltissimo tempo dopo e proprio per realizzare un desiderio della donna aveva partecipato a Miss Italia.